Panico nel tardo pomeriggio di oggi, 7 febbraio, al Vale Center di Marcon, Venezia, quattro rapinatori mascherati e armati di Kalashnikov hanno colpito la gioielleria Valenze e preso in ossaggio un dipendente. L'incidente è avvenuto intorno alle 19, mentre il negozio era ancora aperto e frequentato. I clienti sono fuggiti cercando rifugio all'esterno mentre i banditi saccheggiavano la gioielleria compresa la vetrina. La situazione è diventata critica quando uno dei rapinatori ha preso in ossaggio una dipendente usando la ragazza come scudo umano all'ingresso del negozio. Nel frattempo gli altri tre hanno costretto un'altra collega ad aprire la cassaforte e le vetrine portando via il maggior numero possibile di gioielli inclusi quelli esposti. Successivamente i rapinatori sono fuggiti a bordo di due veicoli, una Golf bianca e una Panda rossa. La Panda è stata successivamente rinvenuta, abbandonata di fronte al mobilificio Mondo Convenienza. Nel frattempo il personale della sicurezza ha attivato l'allarme in tutto il centro commerciale, va quando i clienti dai negozi e dall'ipermercato, i carabinieri sono intervenuti prontamente con pattuglie provenienti da mestre e il supporto dei colleghi del nucleo investigativo di Venezia, guidati dal tenente colonnello Giuseppe Battaglia. Secondo le informazioni raccolti, i rapinatori hanno compiuto la loro azione senza sparare alcun colpo e fortunatamente nessuno è rimasto ferito, comprese le commesse, sebbene la paura fosse diffusa.